Si continua a parlare dello scatto provocatorio che è stato realizzato da diversi cittadini lo scorso 29 settembre davanti l'ospedale civile di Agropoli. Tante testate giornalistiche del territorio, siti web, emittenti televisive e anche Elanza Campania e il quotidiano Il Mattino di Salerno hanno sposato l'iniziativa mettendo in evidenza la provocazione. L'idea nata dalla giornalista televisiva Raffaella Giaccio, direttrice dell'emittente televisiva Cilento Channel, nasce dalla tempesta mediatica ottenuta a Sapri riguardo la nuova statua della spigolatrice e le sue forme e vuole essere una provocazione forte alle istituzioni del posto. Con questo bel vedere può darsi che qualcuno si accorge di cosa non va nella nostra città, fa sapere la giornalista. Lo scatto realizzato dalla fotografa Ornella Foglia nasce da una provocazione che Raffaella Giaccio ha lanciato sui social dopo la tempesta mediatica sulla nuova statua della spigolatrice di Sapri, le sue forme evidenti e l'attenzione di parlamentari, senatrici e tanti politici che si soffermano su cose futili anziché impegnarsi a risolvere problemi atavici. La foto è stata elaborata in post-produzione dallo studio Ornella Foglia, fotografia, esasperando il colore in bianco e nero, tanto da ricreare uno scatto di cronaca con lo sfondo del tanto desiderato ospedale civile di Agropoli. Non si è trattato di un corteo, né di una manifestazione di protesta, ma bensì di uno scatto fotografico con una provocazione ben precisa. Mettere al centro dell'attenzione un bel fondo schiena e lasciarsi alle spalle è invece un problema serio, atavico, che non dà risposte ai cittadini e al comprensorio, l'ospedale civile di Agropoli. Non ambivo a una folla di persone, sottolinea Raffaella, ma a realizzare con la presenza di cittadini del posto questo scatto e ci tengo a precisarlo. Se un eccellente fondo schiena può davvero essere così efficace e attirare l'attenzione mediatica, ben venga. Non mi piace strumentalizzare il corpo femminile, ma se serve per perorare una giusta causa, volentieri ci metto la faccia e anche il fondo schiena, conclude la giornalista televisiva. Raffaella Giaccio